8 marzo 1972, 20.000 donne manifestano a Roma a piazza Campo dei Fiori, la piazza dove l'inquisizione condusse a rogo Giordano Bruno, accusandolo di eresia. Gridano slogan fino ad allora inconsueti, esigono di gestire liberamente il loro corpo e la scelta della maternità. In comune hanno la necessità di un cambiamento radicale che le liberi dagli schemi rigidi di mogli, di madri, di figli. Ai lati della piazza vi è una massiccia presenza della polizia che ben presto carica duramente le manifestanti. La manifestazione resta un momento fondamentale della storia del femminismo in Italia. La manifestazione resta un momento fondamentale della storia del femminismo in Italia. La manifestazione resta un momento fondamentale della storia del femminismo in Italia.